Ciao ragazzi, direi che trovo abbastanza difficoltoso ritrovarmi qui a registrare un video riguardo quello che è successo nell'ultimo mese, soprattutto, perché ovviamente magari uno non si aspetterebbe mai di dover affrontare certi argomenti, ma questa è la vita, insomma, è imprevedibile e io speravo che il video con cui sarei tornata sarebbe stato di tutt'altro tipo, sinceramente. Ovviamente mi aspettavo di ritornare al meglio, ecco, diciamo così, visto che comunque è veramente un bel po' che ormai ho messo in pausa sia il mio canale YouTube che il mio canale Twitch e ho messo abbastanza in pausa anche i miei social come Instagram e TikTok, quindi essendo un bel po' di tempo ovviamente io vi avevo chiesto un pochettino di pazienza perché, appunto, come tutti ben sapete, negli ultimi mesi mi sono ritrovata, insomma, un pochettino in lotta con me stessa, tra virgolette. Vi avevo detto che, insomma, ho intrapreso un percorso, tra virgolette, di miglioramento personale per poter cambiare me stessa comunque e per riuscire a trovare la parte migliore di me stessa, ecco, diciamo così. E, che dire, tutti voi, perlomeno, insomma, quelli che si sono fatti sentire dopo, insomma, che vi ho aggiornato riguardo questa cosa qua, quelli che si sono fatti sentire, quindi sono stati super gentili, super comprensivi, super disponibili, quindi io ci tenevo, visto che, insomma, adesso sto facendo questo video, a ringraziare veramente chiunque sia stato comunque, ecco, così tanto comprensivo nei miei confronti, anche perché io non vi avevo detto che sarei tornata, che ne so, a giugno o a fine maggio o a luglio, non vi avevo dato una data, diciamo così. Diversi di voi mi hanno detto prenditi tutto il tempo che ti serve, quindi volevo approfittare per ringraziarvi per, insomma, come al solito, la vostra immensa pazienza, la vostra immensa gentilezza, il vostro affetto. E quindi, come vi dicevo, io sinceramente speravo di tornare con queste notizie qua, perché sono diversi giorni che sono letteralmente sparita da ogni social, e voi sapete che solitamente comunque su Instagram sempre qualcosina pubblicavo, insomma, ogni tanto ecco mi facevo sentire, e quando invece comunque saranno, non so se un paio di settimane o comunque almeno una decina di giorni, che sono letteralmente sparita dai social, e ho visto che diversi di voi si sono preoccupati, tra virgolette, comunque alcuni di voi mi hanno scritto, insomma, su Instagram, non ho avuto ancora la testa per leggere quei messaggi e per rispondervi, quindi io vi chiedo scusa se ad oggi non ancora ho visualizzato, non ho ancora risposto ai vostri messaggi, ma adesso, ragazzi, vi spiego un attimino quello che è successo nell'ultimo mese, perché appunto vi dicevo che specialmente quest'ultimo mese è stato veramente burrascoso, diciamo così. Nell'ultimo periodo, ragazzi, fino a fine aprile, comunque anche i primi di maggio, direi che era ancora tutto a posto fondamentalmente, nel senso che appunto stavo proseguendo il mio percorso personale di miglioramento, bla bla bla, ne diciamo che ero in ripresa, perché come avevo detto nell'ultimo vlog che ho pubblicato, comunque stavo notando, insomma, dei risultati da questo percorso, quindi ero anche abbastanza soddisfatta, e ero abbastanza contenta perché appunto notavo dei risultati, dei miglioramenti, diciamo. Il punto è che maggio, come vi dicevo, è stato un mese burrascoso, è stato un mese tremendo, che si è concluso, diciamo, nel peggiore dei modi, chiaramente, perché il 28 maggio è mancato mio padre, ragazzi, e il punto è non solo che mi sono ritrovata comunque ad affrontare la morte per la prima volta nella mia vita così da vicino, perché fin quando non la incontri così da vicino non riesci davvero a capire fino in fondo cosa significa doverla incontrare, quindi non solo è stata la prima volta che ho incontrato, diciamo affrontato questa cosa per la prima volta nella mia vita così da vicino, però purtroppo è stato anche il modo in cui, a fine di tutto, mio padre è mancato, che è stato terribile, infatti ragazzi il mese di maggio è stato veramente, direi, tremendo, io vi ho detto burrascoso, ma è stato veramente tremendo, penso uno dei periodi più brutti della mia vita, e quando ti ritrovi ad affrontare queste cose ti rendi conto che forse quelli che ti sembravano problemi non erano poi in fondo dei veri problemi, vi faccio un piccolo riassunto ragazzi, perché se no questo video potrebbe durare veramente tanto, mio padre era ammalato ragazzi e ormai da otto anni a questa parte aveva cominciato ad avere dei problemi, problemi che sono insomma incominciati con un primo ictus e poi insomma via dicendo, non vi sto a fare tutto il quadro clinico perché se no veramente potrei parlare per ore appunto, quindi otto anni fa hanno incominciato a verificarsi questi primi problemi di salute per mio padre, problemi che i primi dei quali era riuscito a superare direi anche abbastanza bene, però purtroppo appunto poi la situazione si è aggravata, problemi che appunto poi si sono aggravati, perché mio padre è stata diagnosticata una malattia di cui adesso non ricordo il nome specifico, perché non l'ho mai imparato, diciamo così, vuoi forse perché non mi andava, vuoi forse perché mi faceva male, non lo so, quindi è un nome che non ho mai imparato, quindi gli è stato diagnosticato un problema che purtroppo portava insomma il suo cervello a degenerarsi, col passare del tempo, quindi praticamente col passare del tempo, quindi più passava il tempo più praticamente ragazzi il suo cervello si spegneva. Questa problematica ovviamente ragazzi poteva significare soltanto una cosa, che ovviamente mio padre piano piano avrebbe perso tutte le funzioni che dovrebbero essere naturali e normali per un essere umano, e quindi ormai erano cinque anni e mezzo che mio padre era allettato, e quindi da cinque anni e mezzo che mia madre si è ritrovata a doversene prendere cura, chiaramente, questo perché ragazzi ovviamente nel senso poi purtroppo le persone, le famiglie si ritrovano a dover affrontare problemi che sono veramente seri, di cui magari una persona non penserebbe mai di doversi occupare e preoccupare, ma invece purtroppo lo stato italiano ti costringe, tra virgolette, a dovertene occupare e preoccupare in prima persona, perché chiaramente ragazzi magari è una cosa che anche molti hanno pensato, perché non lo avete ricoverato in una struttura adibita, ovviamente a prendersi cura di malati simili, perché ovviamente ragazzi se non puoi pagartela, non puoi ovviamente usufruirne, e voi direte ah ma è pure giusto, ragazzi sarebbe giusto se insomma la retta magari di queste strutture fosse un pochettino più bassa, visto che costano tipo 1300, 1400, 1500 euro al mese, quindi se non hai la moneta, ovviamente sei un povero comune mortale, diciamo così, ti attacchi a quello, e quindi ci sono tante famiglie ragazzi, e quindi adesso parlo un po' in generale, perché purtroppo ci sono tante problematiche, che portano purtroppo alcuni malati a ritrovarsi in certe condizioni, e purtroppo i familiari, che magari non possono chiaramente permettersi di far assistere i propri familiari in certe strutture, si ritrovano appunto a doversene occupare 24 ore su 24 in casa, e quindi a dover imparare a fare tante cose, quindi come prendersi cura ragazzi di un essere umano allettato, io non penso di voler entrare nei dettagli, perché magari potete immaginare da voi che cosa significa, e incorrere in tante problematiche, e tante cose insomma, di cui appunto si dovrebbero occupare infermieri, comunque persone che sono specializzate, che hanno studiato per questo, e quindi i familiari ragazzi si ritrovano, come vi dicevo appunto, a dover affrontare situazioni, che a volte sembrano davvero molto più grandi di loro, nonostante tutto appunto devono rimboccarsi le maniche e darsi da fare, perché ovviamente la cura di quella determinata persona sta a te, quindi è tutta nelle tue mani, quindi non puoi fare altro che rimboccarti le maniche, perché se no ragazzi se uno davvero si soffermasse a pensare un secondo, a cosa significa davvero doversi occupare di un malato allettato, e di cosa questo comporta, e davvero ragazzi, è una cosa difficile da raccontare, è una cosa difficile da vivere, perché non lo so, io vi chiedo scusa se come al solito straparlo, però come sempre non mi sono preparata un discorso per fare questo video, ma volevo un attimino condividere con voi quello che è significato, comunque in primis per mia madre chiaramente, che ha praticamente dedicato questi ultimi cinque anni e mezzo della sua vita interamente alla cura di mio padre, e questo significa ragazzi appunto non vivere più, tra virgolette, perché chiaramente come vi dicevo, la tua vita si annulla per preoccuparti della vita di quell'altra persona, che ovviamente non può più provvedere a se stessa, ed è una cosa dura da fare e come vi dicevo da affrontare e da accettare, non solo per le problematiche comunque che uno si ritrova ad affrontare, ma anche ragazzi, e penso soprattutto perché magari la fatica per le altre cose poi te la dimentichi, però penso che la cosa peggiore sia chiaramente dover assistere al lento ed inesorabile spegnimento di quella persona, penso che quella sia la cosa peggiore in assoluto e non l'auguro a nessuno sinceramente, penso che appunto sia quella la cosa che fa più male, perché magari tu sai quale sarà l'esito e il finale di tutto ciò, ma non puoi farci assolutamente niente, quindi l'unica cosa che puoi fare è continuare ad andare avanti, a fare quello che stai facendo, magari non pensando troppo all'esito, perché fa male ragazzi, allora io non ho mai parlato di mio padre, quelle volte in cui ho parlato magari della mia famiglia eccetera eccetera, cioè come figura genitoriale io ho sempre solo parlato di mia madre, perché io non so se magari se è capitato sporadicamente in qualche live o in qualche momento, se è mai capitato insomma che io abbia detto qualcosa riguardo il rapporto con mio padre, forse sì, forse no, però appunto come figura genitoriale io ho sempre solo parlato di mia madre, perché? Perché purtroppo mio padre non è mai stato un padre, io adesso non voglio tessere le lodi, lodi immaginarie dove non ci sono, soltanto perché adesso è mancato, perché sarei una bugiarda, e quindi come vi dicevo mio padre purtroppo, e dico purtroppo chiaramente non è mai stato un padre, ma perché ragazzi questo è un discorso che facciamo sempre, madri e padri non si nasce, non si ha l'istinto materno, non si ha l'istinto paterno, quindi non tutti ce l'hanno, quindi nonostante comunque lui fosse contento chiaramente di avere due figlie, quindi me e mia sorella, non è mai stato un padre, perché evidentemente ragazzi lui proprio come persona non era capace, non tutti ne sono capaci, e quindi non voglio fargliene una colpa, perché non è mai stato una persona cattiva, ecco questo sì, per questo che adesso sto così, perché magari ragazzi ci sono persone che detestano a tal punto i propri genitori, perché non sono mai stati capaci di fare i genitori, che magari al momento della dipartita di quel genitore non sentono assolutamente niente, io non sto così perché nonostante comunque mio padre non sia mai stato un padre, comunque non è mai stato una cattiva persona, anzi è stata una persona che comunque a modo suo ci ha sempre voluto bene, ci ha sempre amato, non è mai stato forse in grado di dimostrarlo, forse non era capace di dimostrare quell'amore, ma nonostante questo comunque ci ha sempre amato, ci ha sempre voluto bene, e alla fine è sempre stata una buonissima persona, quindi non ho nulla da ridire su di lui come persona, e quindi è per questo che sto così ragazzi, perché nonostante tutto non ho mai provato rancore nei suoi confronti per queste mancanze, e quindi ovviamente nonostante tutto gli volevo bene anch'io, e quindi per ricollegarci al discorso di prima, quello che sicuramente ha fatto più male ragazzi è stato vedere, dover assistere senza poter fare niente, a lento e inesorabile deterioramento di questa persona, specialmente negli ultimi giorni ragazzi è stato veramente devastante direi, perché ha avuto un crollo veramente veloce, rapido e repentino, inaspettato da un lato, anche se come vi dicevo uno comunque l'esito lo conosce, però queste sono patologie che possono durare anche tanti tanti anni, e quindi fino a qualche giorno prima comunque stava più o meno come al solito nell'ultimo periodo, e poi ha avuto appunto un crollo veramente inaspettato e repentino, crollo che l'ha portato insomma a non riuscire più ad alimentarsi, non riuscire più quindi a bere, non riuscire più a mangiare fondamentalmente, quindi questo ha portato ad altre problematiche che non voglio, di cui non voglio parlare sinceramente, problematiche che sono state comunque veramente una sofferenza per lui e per noi, e negli ultimi giorni ha avuto proprio il calo definitivo, quindi non è stato neanche più cosciente, il problema è che il suo corpo, noi siamo sicure perché glielo si vedeva insomma dall'espressione sul volto, nonostante non potesse più esprimerlo, ma glielo si vedeva dall'espressione sul volto, purtroppo ha sofferto il suo corpo, anche se appunto mentalmente non era più lucido, perché era incosciente, insomma negli ultimi giorni, il suo corpo purtroppo ha sofferto fino all'ultimo, ed è quella la cosa che ha fatto più male ragazzi, perché come vi dicevo prima, ci sono quei momenti in cui non puoi fare nulla, e sei costretto fino all'ultimo, fino all'ultimo respiro, sei costretto ad assistere alla sofferenza di quella persona, ed è una cosa profondamente ingiusta, secondo me, è profondamente ingiusto ragazzi, perché non è giusto che si debba costringere un essere umano a soffrire così tanto, fino all'ultimo respiro non è giusto, io adesso non voglio fare discorsi politici eccetera eccetera, riguardo l'eutanasia ragazzi, ma io che l'ho vissuto sulla mia pelle, dico che è profondamente ingiusto, che non venga data la possibilità di fare questa scelta, è profondamente ingiusto, perché non è giusto ragazzi, dover soffrire così tanto, quando si sa che non c'è più alcuna speranza, capite che vi voglio dire, quindi non c'è alcuna speranza di ripresa, non è giusto, che non si possa scegliere di addormentarsi dolcemente, piuttosto che soffrire in agonia fino all'ultimo respiro, non è giusto, io non auguro assolutamente a nessuno ragazzi, di dover mai assistere a una cosa del genere, non auguro mai a nessuno di dover provare, di dover provare un dolore del genere, perché è disumano, è veramente disumano, per la persona interessata e per i suoi cari, è assolutamente disumano, tutto questo dolore, tutta questa sofferenza sono assolutamente disumani, quindi non auguro veramente a nessuno, di dover mai vivere una cosa del genere, e quindi io vi chiedo scusa ragazzi per questo sfogo, ma volevo farvi capire perché, specialmente in quest'ultimo periodo, sono completamente sparita dai social, io so che ci sono tante persone che condividono anche il proprio dolore per situazioni del genere sui social, io personalmente non me la sono sentita, perché credo che certe cose siano talmente intime e personali, che non le si dovrebbe sbandierare tra molte virgolette, passatemi il termine, con così tanta leggerezza su queste piattaforme, poi per carità ci sono quelli che magari si sentono rincuorati, rasserenati dalla vicinanza di tante altre persone, con commenti, con mi piace, con messaggi, io questo dolore, mi son sentita di viverlo così insomma diciamo, e non l'ho messo davvero da nessuna parte, neanche sul mio facebook privato, non me la sono sentita, e quindi mi sembrava un minimo giusto spiegarvi cosa fosse successo in quest'ultimo periodo, visto che appunto diversi di voi si sono allarmati, io vi ringrazio, ve l'ho detto all'inizio del video, ve lo ripeto anche adesso, vi ringrazio a tutti, insomma a tutti voi, ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati, si sono allarmati, che hanno avuto un pensiero per me in quest'ultimo periodo, che mi hanno scritto un messaggio, che mi hanno chiesto come stavo, veramente, vi ringrazio di cuore tutti quanti per questo, vi chiedo scusa, vi ripeto per lo sfogo, ma era l'unico modo per farvi capire come sto, perché con i messaggi ragazzi sì, magari si possono scrivere tante parole, però ovviamente non sai davvero come sta quella persona, perché io potrei anche scrivervi, va tutto bene, e in realtà sto così, perché attualmente ragazzi è un periodo strano, ero in ripresa fino a quando appunto ve ne avevo parlato, mi sentivo bene, nonostante tutto stavo cercando insomma di tornare a galla, e adesso mi sembra di ritrovarmi di nuovo con un interoceano, che mi sovrasta, ma credo di non essere ancora riuscita a realizzare, davvero quello che è successo, quindi nonostante cerchi di andare avanti, perché solitamente questo è quello che si dice quando succedono cose del genere, bisogna andare avanti, ed è vero perché in fin dei conti bisogna andare avanti, ma fin quando non lo vivi sulla tua pelle, non puoi sapere che significa quel bisogna andare avanti, quindi attualmente mi ritrovo con questo bisogna andare avanti stampato in testa, e mi rendo conto che comunque è davvero difficile, e anche se appunto si cerca di far finta di niente tra molte virgolette, si cerca di tenersi impegnati, tutto il resto appresso, poi ci sono quei momenti in cui certe cose riaffiorano, e non è semplice. Quindi attualmente ragazzi non so dirvi quando tornerò, con la morte nel cuore davvero ragazzi ve lo dico, perché veramente specialmente nell'ultimo periodo mi ero sforzata davvero tanto, perché comunque mi dicevo devo tornare comunque dai ragazzi in qualche modo, qualche video magari ogni tanto, se non mi sento ripubblicare tanto spesso, mi ero sforzata veramente tanto per poter tornare il prima possibile, e adesso mi ritrovo non di quel punto di partenza, ma più o meno, quindi non so dirvi quando tornerò, spero il prima possibile, magari è una cosa che può farmi anche bene, non so, e quindi la situazione attuale è questa, purtroppo io ringrazio in anticipo chiunque dovesse scrivermi un commento qua sotto, o di qualsiasi genere di vicinanza, di affetto, vi ringrazio già da adesso, insomma vi assicuro che li leggerò tutti, non so se riuscirò a rispondere, ma vi assicuro comunque che li leggerò tutti, quindi comunque grazie già da adesso, e nulla, io credo di aver straparlato anche troppo anche oggi, ma ci tenevo insomma ecco ad informarvi, e ad aggiornarvi sulla situazione attuale, quindi grazie di cuore a chiunque abbia voluto ascoltare tutto il video, insomma fino alla fine, grazie a chiunque ancora comunque ogni tanto mi chiede come va, come non va, quando torno, chiunque comunque mi esprima un pochettino di affetto, chiaramente vicinanza, simpatia, quindi grazie, grazie veramente di cuore a tutti i ragazzi, io direi che questo video termina qui, ci aggiorniamo penso presto comunque sui social, perché credo che almeno sui social presto tornerò, quindi grazie veramente di cuore a tutti ragazzi, io vi mando un abbraccione enorme, un bacione, ciao ragazzi!